E' dalla sanità che funziona quella che mostra segni di difficoltà, grido d'allarme degli infermieri che lamentano maggiori carichi di lavoro e più rischi per gli assistiti e tutto ciò a causa dei tagli per il piano di rienzo del deficit sanitario. Fulvio Totano. Il turnover per i prossimi anni riduce le dotazioni organiche con il rischio di paralisi per molti servizi. Per la dialisi per esempio le linee guida nazionali indicano un rapporto ottimale di un infermiere ogni tre posti rene per turno, ma in alcuni reparti, spiegano i responsabili della FSI, c'è un rapporto di uno ogni cinque. La carenza di ausiliari e operatori sociosanitari inoltre sta determinando un ulteriore carico di lavoro per gli infermieri anche in altri reparti. Postazioni 118 in cui il personale infermieristico è costretto a un turnover esagerato, a volte fuori controllo addirittura, e i reparti di rianimazione, i pronto soccorsi. Tra l'altro la chiusura di alcuni presidi ospedalieri prevista dal piano di rientro avrebbe dovuto liberare personale da trasferire dove ci sono maggiori problemi. Invece ciò non è avvenuto, aggiunge il sindacato, e gli ospedali attivi si trovano a dover fronteggiare con le stesse risorse una maggiore richiesta di assistenza.